Mi sono chiesto una domanda Ma questo ragazzo di nome Nickwatch Riuscirà a fare più di una voce diversa Di più di Skander diversi? Andiamo a scoprire Armato e pericoloso Armato e pericoloso Taglia e brucia Nato per bruciare Facciamoti sentire Tempesta in arrivo Un incendio indomabile Esplosivo e furioso Otto gambe tutte in gamba Alimento il fuoco Oscuro e pericoloso Mi scontrerete con la dinamite Proverete paura per la mia spada Proverete paura per la mia spada Vivo per la giustizia State in guardia quando affrontate la tempesta Niente vuole quanto il mio potere Ogni anno voi stupidi Skylanders Vi sentite mai impicciare i miei piani Ma questa volta no Perché adesso è arrivato Tan 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 Me Chaos E per quanto voi stupidi ma non li avete capito Io sono il cattivo Ahahahahahaha Vivo 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 Grazie.